Va tutta velocissima però stasera punto it, secondo il posto bellissimo insomma, qui in casa praticamente Bellissimo, inaspettato, ancora più bello perché in casa e devo ringraziare tutto il pubblico, senza di loro non ce l'avrei mai fatta Forse è stato quello che mi ha fatto andare di più del solito Doppietta con Federico, bellissimo Ma neanche se ne avessimo scritto un copione sarebbe venuta meglio, quindi è venuta una giornata fantastica E veramente ringrazio tutti, dall'organizzazione, al pubblico, alla regione, a tutti quelli che ci hanno sostenuto in questa giornata Ci sono i mondiali, si informissimo Come dicevo, è importante fare una bella gara qua, non solo perché siamo in casa ma anche perché ci sono i mondiali tra pochi giorni Quindi vedremo, speriamo di continuare su questa strada e di portare a casa ancora dei risultati importanti Grazie mille, bravissimo